E' una occasione drammatica, le mie condoglianze al Primo Ministro e a tutte le famiglie che purtroppo hanno perso dei cari in questa sciagura, ma è anche in questo momento un'occasione per dimostrare la vicinanza delle istituzioni europee ad un popolo che è sempre stato amico dell'Europa, dell'Italia e di tanti Stati membri europei. Grazie a tutti!